ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale nel tutorial di oggi andiamo a realizzare questo simpatico pupazzetto baby yoda all'uncinetto molto carino che piacerà molto ai più piccini il progetto è molto semplice che senza problemi possono realizzare anche i principianti adesso andiamo a vedere cosa ci occorre per realizzarlo e possiamo partire col tutorial abbiamo bisogno del filato verde e beige per fare il pupazzo un po di nero per fare la bocca e un po di bianco per fare la sciarpetta del pupazzo io userò un 100% cotone ma potete benissimo anche usare un acrilico l'uncinetto nel mio caso è l'uncinetto del numero 4 abbiamo bisogno di una forbice di un ago da lana di un pezzetto di filo a colore contrasto che ci farà da marca punti abbiamo poi bisogno di un po di imbottitura acrilica e per gli occhi o questi occhietti di sicurezza che nel mio caso hanno un diametro di 10 mm ma potete usare anche bottoni o perle iniziamo a fare la testa del nostro pupazzo prendiamo il verde l'uncinetto come prima cosa andiamo a fare un anello magico lo fermiamo con una catenella e all'interno dell'anello andiamo a caricare sei punti bassi per cui entro all'interno dell'anello pesco il filo lo porto di qua ho due asole sull'uncinetto prendo il filo e chiudo le due asole insieme e abbiamo fatto il primo punto basso ripeto entro all'interno pesco il filo lo porto di qua due asole prendo il filo e chiudo le due asole insieme secondo punto basso fatto andiamo a fare il terzo il quarto il quinto e il sesto prendiamo poi la codina tiriamo così il nostro anello si chiude e adesso ci procuriamo il nostro marca punti lo posizioniamo e questo marca punti ci indica ogni volta che iniziamo un nuovo giro in questo secondo giro andremo a fare un aumento in ogni punto del giro sotto aumento significa che facciamo due punti nello stesso punto di base per cui entro nel primo punto e vado a fare un punto basso rientro nello stesso punto e faccio un secondo punto basso vado nel prossimo punto libero e anche qui faccio un punto basso rientro nello stesso punto e faccio un secondo punto basso nel prossimo punto vado a fare anche qui due punti nello stesso punto faremo due punti in ogni punto fino al termine del giro dove abbiamo poi un totale di 12 punti sono arrivata al termine del giro adesso spostiamo il nostro marca punti iniziamo giro numero tre in questo giro faremo sempre un punto singolo e nel punto successivo l'aumento poi di nuovo un punto singolo e un aumento e questo per tutto il giro per cui entro nel primo punto e vado a fare un punto basso nel prossimo punto vado a fare l'aumento pertanto faccio due punti nello stesso punto nel prossimo punto di nuovo solo un punto basso nel punto successivo di nuovo l'aumento due punti nello stesso punto allora un punto e un aumento per tutto il giro e alla fine ci troviamo un totale con 18 punti ho terminato il giro sposto il marca punti e inizio il giro numero 4 in questo giro faremo sempre due punti bassi e nel terzo l'aumento e questo per tutto il giro per cui vado a fare prima due punti bassi uno e due e nel terzo l'aumento poi di nuovo due punti bassi uno e due e nel terzo l'aumento due punti e un aumento per tutto il giro e alla fine del giro ci troviamo poi un totale di 24 punti e quando abbiamo terminato il giro spostiamo nuovamente il nostro marca punti iniziamo col prossimo giro che il giro numero 5 in questo giro faremo sempre tre punti bassi e nel quarto l'aumento e questo per tutto il giro per cui andiamo a fare tre punti uno due tre e nel quarto poi l'aumento tre punti e un aumento per tutto il giro e alla fine del giro ci troviamo poi un totale di 30 punti ho terminato il giro spostato anche il marca punti adesso abbiamo terminato con gli aumenti iniziamo il prossimo giro che sarà il giro numero 6 e dal giro numero 6 al giro numero 11 compreso lavoriamo i punti come si presentano andiamo a fare sempre un punto basso sopra ogni punto fino al termine del giro dove spostiamo il nostro marca punti iniziamo il prossimo giro vi ricordo che abbiamo un totale di 30 punti andiamo a fare adesso questi sei giri di 30 punti e poi ci rivediamo allora io ho terminato i miei sei giri e nel frattempo sono andata anche già a fissare gli occhi allora gli occhi vanno posizionati tra la nona e decima riga e tra un occhio e l'altro lasciate uno spazio di cinque punti adesso riprendo il filo sull'uncinetto vado a riposizionare il marca punti e inizio il giro numero 12 in questo giro faremo un giro di diminuzioni faremo sempre tre punti e una diminuzione per tutto il giro per cui vado a fare i primi tre punti 1 2 e 3 e poi la diminuzione per fare la diminuzione invisibile prendo la costina davanti del prossimo punto la costina davanti del punto successivo prendo il filo passo attraverso le due costine restano due asole sull'uncinetto prendo il filo e chiudo le due asole insieme e tiro bene così di due punti abbiamo fatto un punto poi di di nuovo tre punti bassi 1 2 e 3 e poi la diminuzione costina davanti del prossimo punto costina davanti del punto successivo prendo il filo passo prima attraverso le due costine restano due asole sull'uncinetto prendo il filo e chiudo le due asole insieme e tiro bene e poi di nuovo tre punti bassi per cui tre punti bassi e una diminuzione fino al termine del giro ho terminato il giro con una diminuzione abbiamo un totale di 24 punti in questo ultimo giro ho spostato il marca punti iniziamo il giro numero 13 e in questo giro faremo sempre due punti e una diminuzione per tutto il giro per cui vado a fare i primi due punti 1 2 e poi la diminuzione due punti e una diminuzione per tutto il giro e alla fine del giro ci troviamo un totale di 18 punti anche in questo giro ho terminato con una diminuzione sposto di nuovo il marca punti andiamo a fare giro numero 14 in questo giro faremo sempre un punto e una diminuzione per tutto il giro per cui andiamo a fare un punto e poi la diminuzione poi di nuovo un punto e poi la diminuzione in questo giro l'ultima diminuzione la faremo insieme perché dobbiamo fare il cambio colore per cui lavorate adesso un punto una diminuzione e nell'ultima diminuzione prima dell'ultima diminuzione vi fermate e ci rivediamo per fare il cambio colore insieme sono arrivata quasi al termine del giro devo fare l'ultima diminuzione siccome che adesso andiamo a fare un cambio colore entro nella costina del prossimo punto nella costina davanti sempre del punto successivo prendo il filo verde e passo attraverso le due costine poi lascio cadere il filo in lavorazione vado a prendere il filato beige e chiudo le ultime due asole col filo verde e così abbiamo fatto il cambio colore al termine di questo giro abbiamo un totale di 12 punti adesso spostiamo di nuovo il nostro marca punti il colore verde che abbiamo avuto in lavorazione fino adesso lo possiamo tagliare adesso andiamo avanti a lavorare intanto col colore beige tiriamo bene tutti due i filati mettiamo il nostro marca punti e iniziamo col numero 15 col giro numero 15 e in questo giro faremo sempre un punto e un aumento per cui entro nel primo punto mi posso lavorare anche le due codine faccio un punto singolo qua devo tirare meglio il colore beige ok abbiamo fatto un punto nel prossimo punto andiamo a fare l'aumento due punti nello stesso punto nel prossimo punto un punto solo nel punto successivo l'aumento faremo un punto e un aumento fino al termine del giro dove abbiamo poi un totale di 18 punti sono arrivata al termine del giro sposto il marca punti andiamo a fare giro numero 16 che sarà un altro giro di aumenti in questo giro faremo sempre due punti e un aumento per tutto il giro per cui entro nel primo punto faccio un punto basso entro nel prossimo punto faccio un punto basso e nel terzo punto poi l'aumento due punti nello stesso punto poi di nuovo due punti e nel terzo l'aumento due punti e un aumento per tutto il giro e alla fine del giro ci troviamo poi un totale di 24 punti ho terminato il giro ho spostato il marco punti iniziamo il prossimo giro che è il giro numero 17 e dal numero 17 al numero 21 lavoriamo i punti come si presentano come abbiamo fatto prima lavoriamo un punto sopra ogni punto arrivati al termine del giro spostiamo il marco punti iniziamo il prossimo giro ricordo che abbiamo un totale di 24 punti adesso andiamo a fare questi 5 giri di 24 punti e quando lavoriamo l'ultimo giro lavoriamo il penultimo punto dell'ultimo giro poi ci rivediamo perché dobbiamo rifare un cambio colore ho lavorato il penultimo punto del quinto giro e adesso passiamo di nuovo al colore verde per cui entro nell'ultimo punto pesco il filo lascio cadere il colore beige riprendo in mano il filo verde e chiudo le due asole col filo verde e abbiamo terminato anche questo giro spostiamo il nostro marca punti tiriamo bene i due fili e nel prossimo giro che sarà il giro numero 22 andiamo a fare diminuzioni faremo sempre due punti e una diminuzione però lavorando solo nella costina dietro di ogni punto per cui entro nel primo punto nella costina dietro e faccio un punto basso e poi la diminuzione sempre prendendo solo le costine dietro entro nella costina dietro del prossimo punto pesco il filo lo porto di qua esco nella costina dietro del punto successivo prendo la costina la porto di qua quando ho tre asole sull'uncinetto prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme e tiro bene poi di nuovo due punti sempre nella costina dietro uno scusate qua devo entrare meglio uno e due e poi di nuovo la diminuzione nella costina dietro del prossimo punto pesco il filo lo porto di qua nella costina dietro del punto successivo porto di qua il filo ho tre asole prendo il filo e chiudo le tre asole insieme faremo due punti e una diminuzione fino al termine del giro ho terminato il mio giro con una diminuzione adesso allunghiamo l'asola dell'ultimo punto possiamo togliere un attimo il nostro marca punti perché adesso dobbiamo andare a mettere l'imbottitura all'interno del nostro Yoda per cui ci procuriamo la nostra imbottitura e con calma andiamo a imbottire prima per bene tutta la testa cerchiamo di dargli una bella forma e poi il corpo imbottito poi a sufficienza testa e corpo riprendiamo il filo sull'uncinetto riprendiamo il nostro marca punti andiamo a fare il giro numero 23 in questo giro faremo sempre un punto e una diminuzione però adesso lavoriamo di nuovo prendendo tutte due le asole del punto per cui facciamo un punto e poi la diminuzione poi di nuovo un punto e una diminuzione e questo fino al termine del giro e adesso andiamo a fare il nostro ultimo giro che sarà un giro di solo diminuzioni faremo una diminuzione dopo l'altra prendendo sempre solo le costine davanti di ogni punto e poi possiamo togliere il marca punti entrare nel prossimo punto disponibile fare un punto bassissimo tirare bene allungare l'asola tagliare il filo lo sfiliamo e adesso ci procuriamo l'ago da lana e andiamo a chiudere gli ultimi sei punti con l'ago perciò infiliamo il filo all'interno dell'ago e per chiudere prendiamo sempre solo la costina davanti di ogni punto i punti sono sei poi tiriamo bene si chiude il nostro buchetto entriamo qua in mezzo e poi sbucchiamo in un qualsiasi punto del corpo facciamo passare il nostro ago e il filo e poi prendiamo la forbice e tagliamo il filo in eccesso e il corpo del nostro baby è pronto adesso ci dobbiamo occupare delle mani per iniziare le mani prendiamo il colore verde andiamo a fare un anello magico lo fissiamo con una catenella e all'interno dell'anello andiamo a caricare cinque punti bassi tiriamo il filo dell'inizio così si chiude l'anello prendiamo il nostro marca punti e adesso andiamo a fare due giri di cinque punti quando facciamo il secondo giro lavoriamo solo quattro punti del secondo giro il quinto lo lavoriamo insieme perché dobbiamo fare il cambio colore ho lavorato il penultimo punto del secondo giro dei cinque punti adesso entriamo nell'ultimo peschiamo il filo verde lasciamo cadere il filo verde prendiamo il filo beige e chiudiamo le asole col filo beige e adesso andiamo a fare altri due giri di cinque punti col filato beige terminato il nostro secondo giro di cinque punti col colore beige andiamo a piegare sopra il lavoro e andiamo a unirli con due punti bassi uno e due facciamo una catenella tiriamo bene allunghiamo l'asola tagliamo il filo un po lungo perché ci serve poi per cucire il corpo chiaramente di queste braccia poi abbiamo bisogno di due pezzi che mettiamo un attimo da parte adesso ci occupiamo delle orecchie per le orecchie andiamo a riprendere il filo verde andiamo a fare un capietto iniziale e carichiamo un totale di otto catenelle una due tre quattro cinque sei sette e otto carichiamo il filo saltiamo una due tre catenelle entriamo nella quarta e facciamo un punto alto carichiamo il filo nella prossima catenella un secondo punto alto carichiamo il filo nella prossima catenella un terzo punto alto carichiamo il filo nella prossima catenella facciamo una mezza maglia alta e nell'ultima catenella facciamo prima due punti bassi, uno e due, una catenella e nello stesso punto un altro punto basso. Adesso giriamo leggermente il lavoro, ci lavoriamo anche la codina e torniamo indietro. Nel prossimo punto facciamo una mezza maglia alta, poi seguono le tre maglie alte, vado nel prossimo punto faccio la prima maglia alta, nel punto successivo la prossima maglia alta, nel prossimo punto la prossima maglia alta, poi andiamo a fare tre catenelle, rientriamo nello stesso punto e facciamo un punto bassissimo, una catenella, tiriamo bene, allunghiamo l'asola, tagliamo il filo un po' lungo e lo sfiliamo e così abbiamo terminato il primo orecchio, adesso andiamo a fare un secondo uguale identico. E quando abbiamo realizzato le due braccia e le due orecchie non ci resta che prendere l'ago e cucire, prima cuciamo le braccia per cui prendiamo il nostro ago da lana col primo braccia che fisseremo qua, diciamo, sulla prima riga del corpo con due o tre punti, prendendo un punto del corpo, poi entriamo nel braccio, poi di nuovo un un punto nel corpo, un punto nel braccio, poi di nuovo rientriamo nel corpo, nel braccio, torniamo indietro, bastano due o tre punti e poi prendete la misura e andate ad attaccare allo stesso modo lo stesso braccio, cioè il braccio, scusate, dall'altra parte. Una volta che avete cucite tutte e due le braccine, andate a cucire anche le orecchie, prendete dall'occhio, contate uno, due, tre, quattro punti e andate a fissare l'orecchio, la stessa cosa dall'altra parte e nello stesso metodo che avete cucito anche le braccia prendendo sempre un punto dalla testa, in questo caso è un punto dall'orecchio. Adesso l'unica cosa che dobbiamo ancora fare è la bocca, vi prendete l'ago, il filato nero, entrate in un posto, in un punto qualsiasi e sbucate, spero che si possa vedere in video, in questo modo, fate passare ago e filo, lasciate qua un pezzetto di filo e poi contate uno, due, tre punti, entrate nel quarto e poi entrate al centro, allora praticamente entrate sotto al centro, sbucate col vostro ago, in questo modo, poi prendete il filo, lo tirate in giù e con l'ago da sopra, rientrate nello stesso punto e poi fate uscire il filo, se riuscite, nello stesso punto dove siete partiti e abbiamo fatto una testa sorridente. Adesso con questi due fili faremo dei nodini e poi nasconderemo i fili all'interno della lavorazione. Adesso ci manca ancora la sciarpetta, per fare la sciarpetta vi potete prendere qualsiasi colore, io prendo il bianco e vado a caricare dopo aver fatto un capietto iniziale un totale di 28 catenelle. Fate le nostre 28 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo una, due, tre catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare un punto alto. Adesso faremo un punto alto in ogni catenella fino a lavorare su tutte le catenelle. Arrivati al termine faremo la catenella, taglieremo il filo che possiamo lasciare un po' lungo e poi la nostra sciarpetta o la possiamo cucire sui lati o se no lasciamo il filo lungo e possiamo semplicemente fare un fiocchetto dietro al collo del nostro Yoda. E una volta che è fatta anche la sciarpetta, io dietro per esempio con due punti ho cucito la sciarpetta, voi potete fare anche solo un fiocchetto per metterla e tolgerla, questo poi è il nostro risultato finale. Io lo trovo molto grazioso, so che il video è venuto un po' lungo ma i passaggi erano tanti. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!